Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo hanno festeggiato ieri, 12 luglio, i loro 15 anni di matrimonio. La coppia ha deciso di condividere questo momento speciale con i loro follower su Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero che li ritrae mentre si scambiano un dolce bacio. La didascalia del post recita 15 anni di matrimonio, oggi come allora. Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2002, quando lui era il conduttore dell'eredità e lei faceva parte del cast come ballerina e valletta. All'inizio Giovanna era un po' scettica riguardo all'idea di frequentare il famoso presentatore, ma alla fine ha deciso di dargli una possibilità. E i 15 anni di matrimonio che hanno festeggiato dimostrano che la loro storia d'amore è stata davvero speciale. Nel 2009 la coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio insieme, Giuse Alberto. Amadeus ha già una figlia, Alish, avuta da un precedente matrimonio. Pochi mesi dopo la nascita di Giuse Alberto, Amadeus e Giovanna hanno deciso di ufficializzare la loro unione con un matrimonio civile. Recentemente è emersa la notizia che Giuse Alberto è stato ingaggiato dall'Udinese per giocare nel Under 16 come portiere. Questa è stata una grande gioia per la famiglia e un ulteriore motivo di celebrazione. La famiglia di Amadeus e Giovanna sembra essere più unità che mai. Prone fronte in the extravaita, it has helped ever care to do. Grazie a tutti.